Antonio Lesai in sala stampa presenta la sfida domani pomeriggio sul campo della Pro Favara. Che partita sarà? Che gara ti aspetti? È un derby, quindi sarà una partita molto grintosa, molto maschia. Noi daremo tutto e ci aspettiamo di fare un buon risultato fuori casa. Quanto è importante domani la posta in palio? La posta in palio, come da qui alla fine, è sempre importante. Ripeto, i derby sono ancora molto più importanti, quindi dobbiamo fare di tutto. Iniziare già da oggi ad avere la mentalità giusta per andare lì domani e vincere. Come sta l'Akragas? Come l'avete preparata questa partita? Stiamo bene, l'Akragas l'abbiamo preparata come prepariamo ogni partita, con i minimi particolari e cercando di mettere tutto in allenamento. Che Agragas servirà domani sul campo della Pro Favara? Non saranno presenti tifosi agrigentini? Sì, purtroppo non saranno presenti tifosi, però come ogni partita da qui alla fine servirà un'Akragas grintosa che vuole lottare su ogni pallone.